Provo il microfono Ora vediamo se mi ricordo la cazzone di colla del fumendo 1, 2, 1 Provo il microfono Questo è il microfono che nasce dalla metropoli Tu, alza la mano se ti piace Io brucio il microfono perché ne so capace Ah, buongiorno a tutti Sono Hermes Magliolica Qualcuno mi conosce Qualcun altro per fortuna, no? E stamattina Parlerò un pochino del punk A Terni E mi fa molto piacere Che Electric TV Mi abbia chiesto di dare questa testimonianza Perché non mi capita mai Di parlare del mio passato Della mia adolescenza Se oggi le ambientazioni che frequento Che ho anche a livello professionale Ma anche a livello di amicizie Dovessi raccontare la mia esperienza da punk Non ci crederebbe nessuno Che fu un periodo molto particolare E oggigiorno per quello che abbiamo fatto All'epoca poi sembrerebbe fantascienza E poi all'epoca Diciamo C'era Era più facile a livello legale Avere un certo comportamento Come sei diventato punk? Intanto potrei iniziare Esatto Lui intanto mi dà indicazione Da dietro la telecamera Tutto è iniziato Che ero adolescente Proprio piccolo Iniziai ad avvicinarmi al punk solo Especialmente per il genere musicale Una notte ho sentito Un gruppo musicale In tv Mi sembra su MTV Iniziai a cercare questa musica Entrai un pochino nella cultura punk Ma come L'anno non me lo ricordo Ma ero piccolo Più o meno Non lo so Però adesso ci arrivo A differenza di tante altre culture alternative Che c'era all'epoca Tante persone Si avvicinavano Alla cultura di strada Al musica punk Più per forma di ribellione intellettuale Magari venivano da famiglie per bene E avevano in quell'età adolescenziale Con il momento in cui ci si ribella ai genitori Quel periodo marxista Invece noi eravamo semplicemente Dei disadattati sociali Persone senza istruzione Non istruite Che magari provenivano Da ambienti di disagio sociale E ci siamo avvicinati alla strada Più un discorso come Quindi per noi la strada Era quasi una famiglia Per il disagio sociale Si intendeva Che non riusciamo bene A integrarci nella società Per interessi diversi E soprattutto Per un discorso anche di istruzione Non venivamo da una situazione Tanto facile Eravamo tutta gente Maggior parte persone Con problemi Magari a casa Problemi anche comportamentali E come dicevo Non istruiti Capito Anche particolarmente Ignorantelli Anzi diciamo Che eravamo Delle capre assolute Fine medie Primo liceo Più o meno Quel periodo Parlavamo D'intorno ai 13 anni Tu considera Che già 14 anni Già ero Abbastanza punk E già partita Solo per Bologna Per vedermi Giostrammer De Clash E quando avevo 14 anni Tra i 14 e i 15 anni E arrivai a Bologna Era l'Independence Day Festival che facevano All'Arena Parco Nord Arrivai su questa città Piena di banche Da lì mi innamorai Mi innamorai di Bologna Iniziai a frequentarla Sempre più spesso Ovviamente non avendo i soldi Si andava su Un po' alla banca bestia Appunto Facendo elemosina Fuori dai supermercati Facendo colletta E dopo Quando Verso i 19 anni Entra in fabbrica In Doria Potevo anche permettermi Di non fare colletta Però continuavo a fare lo stesso Perché ormai era Uno stile di vita Era divertente farlo Era divertente andare Su una città Conoscere le persone in piazza Fare colletta E frequentare un pochino L'ambiente E farsi ospitare Una delle cose più belle Era quello di essere punk Era proprio nello stile di vita Io spesso partivo Prendevo il treno E arrivavo su qualche grande città Soprattutto Bologna Ma frequentavo anche Milano Firenze Perugia Che era vicino E la prima missione Che arrivavo su una città Era quello di fare colletta Fuori dai supermercati Conoscere persone E in qualche modo Mi divertivo tantissimo A fare il disadattato Il discriminato sociale Era frequentare posti occupati Per dormire Farsi ospitare Considerate pure Che soprattutto Intorno ai vent'anni Ero proprio Avevo quel look Punk classico Inglese Anni settanta Completamente borchiato Vestito attillato Quei scarponi Fino a ginocchia E la cresta punta La cresta alta E E E Dopun che andavo Mi cacciavano Anche sotto i porticati Non sapevo dove dormire Spesso L'ultimo periodo Dormivo spesso Alla montagnola Insomma Scusate Gli spezzoni continui Ma qua è un via vai Dei camion Dei furgoncini E ogni volta Dobbiamo staccare Incredibile E' peggio Nella metropoli In Arni Insomma Stavo parlando Che quando ero ragazzo Andavo in giro Per Bologna Per le città Avevo sempre problemi E trovavo posto Di dormire Uno perché se dormivano i condomini La gente mi cacciava I arrandellate Ducandocchi Ero vestito in modo estremo Costa Cresta Sempre ubriaco Due Avevo paura anche A dormire lungo le strade In posti nascosti Inguattati Perché è piena Dei criminali Che odiano i barboni E quindi cercavo sempre Di dormire per strada Sì ma in posti Abbastanza frequentati E tranquilli E per esempio A Bologna Si usava Io almeno dormivo Alla montagnola Che era Un parco Un parchetto Che sta al centro di Bologna E un periodo Dormivo lì Il problema Che tutte le mattine Io mettete caso Andavo a dormire Verso le 3 Le 4 Tardi insomma E anche in condizioni Abbastanza grevi E tutte le mattine Verso le 6 Le 5 e mezza Di mattina Arriva la polizia E mi svegliava Con le zampatelle Mi dava sempre Le zampatelle Addirittura Mi prendeva pure in giro E faceva colazione In camera Colazione in camera E tentava Mi faceva alzare Quindi io Tipo soltanto Due ore di sonno Circa Mazzato Tutto ringoglionito Ogni volta La mattina Dove andare Alla ricerca Di un posto Tranquillo Per dormire Così a un certo punto Ho cominciato A dormire Sopra le vigole Prima di me Il posto più nascosto Dove nessuno Ti poteva rompere le palle Era sopra le vigole Dove Era anche sicuro Che ti trovava Sopra le vigole Visto Sopra le vigole C'è stato Tipo uno scasso Era pure facile Arrambicarsi Arrambicare Sul davanzaletto Le vigole Andavi sopra Le vigole E tutte le notti Andavo a dormire Su quest'edicola Ed era figa La scena La mattina dopo Perché L'edicolante Era aperto Io mi svegliavo Intorno alle 10 Così di mattina E quindi Te vedevi Sto panche Che ti scendeva Dall'edicola Non si capiva Da dove neva Quindi immagini Tu stai a lavorare In edicola Col signore O giornale Te scende sto panche Con sto crestone Buongiorno Poi a Bologna Quel periodo Era tutto sdoganato Era tutto normale Quindi Sì erano perplessi Però non è Ti dicevano Chi è lei Chiamo la polizia No era Buongiorno Sì perplessi Però Bologna può succedere Tutto Anche con panche Tutte le mattine Te scende dall'edicola Eccola Più o meno C'era questa atmosfera qua E poi Ad un certo punto Addirittura Iniziai a dormire Dentro una classe All'Accademia Delle Belle Arti C'era una classe Che c'era una finestra Mezzarotta Una studentessa Me l'aveva segnalato E tutte le notti Andavo a dormire Dentro questa aula Che non era usata Spesso Era usata raramente E faceva ridere Anche lì Perché mi svegliavo Alle 9 di mattina Quei studenti Che mi camminavano davanti Insomma Era una situazione Abbastanza grottesca Bologna in quegli anni Era così Era tutto Un improvvisarsi Era Per me È stato Uno dei periodi Più belli Della mia vita Proprio divertenti Perché Ho Ho vissuto L'esatto opposto Di quello che vivevo A Terni Anche Terni Aveva una bella scena Belle situazioni Però Come ero stato Cresciuto io Era Si faceva gara Ad essere normali E quindi Tutte le stranezze Che avevo Che purtroppo Le stranezze Non avevo Soltanto il look Io ero anche Un ragazzo Diciamo Neurodivergente Ero più strano De carattere Di atteggiamento Un ragazzo Ecco diverso E questa diversità Me l'hanno sempre Fatta pesare E quindi invece A Bologna Trovai una città Dove al contrario Si faceva gara A chi era più strano E quindi finalmente Potevo essere me stesso Perché Non mi sentivo Osservato Quelle stranezze Anzi Era Era l'esatto opposto Ecco Non so come raccontarlo E quindi ecco Il punk In un certo senso Era No in un certo senso Era Un'espressione di libertà Un'espressione di libertà Di un sistema Come sia di opprima In un momento in cui Non ti allini bene Al conformismo E quindi Anche il look estremo E in modo anche Di prendere distanze Da una certa conformità E anche lo stile di vita Soprattutto Al punk All'ideale E al punk intellettuale Ci arrivai dopo Ma all'inizio Il punk per me Era soltanto sfogo E stile di vita Uno stile di vita Diverso Che non doveva essere imposto Come dire Io posso andare in giro Posso viaggiare Anche senza soldi Posso girare Senza costruzioni Posso fare quello mi pare Posso dormire Dove mi pare Insomma Faccio quello che mi pare Cosa che È sbagliato A livello collettivo Una persona che dorme per strada È una persona problematica Brutta Un senza tetto Sbagliata Ma allo stesso tempo Ehm Invece Non lo so 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 Beh diciamo Una società capitalistica Ti dice che tu puoi fare E quello che ti pare L'importante è che hai soldi Per farlo No E quindi Invece Uno stile di vita Dove fai lo stesso Quello che ti pare Senza soldi Beh Quello è punk Quindi ecco Sono state Tante esperienze Mi sono Divertito tanto Però Queste esperienze Purtroppo Hanno anche Una parte negativa Negativa no A livello filosofico In senso Qualsiasi esperienza Mi ha cresciuto E mi ha reso L'uomo che sono adesso Ma Ovviamente In quel periodo È un periodo Molto libertino Sesso facile Si faceva sesso facilmente La strada purtroppo Era Piena di droga E alcol E quindi facilmente Si cadeva in Indipendenze No Di alcolismo Ehm Per esempio se posso Raccontarvi un aneddoto Visto che Una delle missioni principali Quando si arrivava Su una città E si faceva colletta Nei supermercati Per sopravvivenza Diciamo Tra parentesi Anche se non era vero Una delle missioni principali Era quella di trovare Accoglienza E un pontetto per dormire E ovviamente Faceva piacere Insomma Si andava Si cercava di rimorchiare Si cercava di rimorchiare E poi Uno dei paradossi Esempio del punk Non ho mai accettato Che il punk Io volevo fare schifo Fondamentalmente La missione del punk Era quello di essere odiato Mostrare il disagio E in qualche modo Fare schifo E in parte ci riuscivi Ma però In qualche modo Paradossale Si piaceva pure Alle ragazze Perché vedevano Un disadattato Soprattutto in età Giovanile Tra adolescenza E post-adolescenza Alle donne Piacciono quelli Un po' disadattati Quindi Diciamo Si rimorchiava facilmente Se posso raccontarvi Un aneddoto Stavo sempre a Bologna Conosco Un artista Una ragazza E va bene Mi ospita a casa sua E non abitava da sola Abitava col marito Della sorella Che era Un grezzo Cattivo Lei mi raccontava Malissimo Che è un violento È cattivo Gigantesco Un cacciatore Dentro casa C'aveva tutti i fucili appesi Il cinghiale Sta roba qua Dentro Bologna Sembrava un grezzo De quelli De campagna E mi raccontava Così Non va bene Mia sorella Si è sposato Sto deficiente È un violento Insomma Stavo a casa Senti ma Se vedi a me Dentro casa tua Così Con sta cresta Non è che Mi caccia via Eh sì No ma non ti preoccupare Loro stanno in vacanza Sono andati via A un certo punto Io stavo Lei esce a comprare sigarette Io stavo da solo Dentro casa Mi chiama E mi fa Oddio Stanno tornando dalla vacanza Dalla gira Ma come Mi ha detto Eh mi sono sbagliato Pensavo Che fosse un altro giorno Invece oggi Rieno Stanno rientrando Mi hanno chiamato E mo Io pensavo Mo questo qui Entro in casa Mi vede Solo a me dentro casa Vestito in quel modo Mi spara Mi dava una schioppettata Allora presi E mi buttate sotto Dal secondo piano Quindi Voi immaginatevi Sta scena Io così Vestito da panche Una signora Stava camminando In quel momento Si è visto un panche Cascata al terrazzo Della palazzina Casco Non sento niente Vado via Dopo un po' Mi si blocca il ginocchio E mi ero praticamente Mezzo a rotto il menisco Dopo Dopo tanti Mi sono operato Però insomma Per farti capire Mi sono fatto male veramente Stavo lungo la strada Mi si blocca il ginocchio Casco per terra Non esco più a camminare E non sapevo come fa Se chiamo l'ambulanza Mi piava male Non c'è Non voglio andare all'ospedale Ho detto Mo mi passerà Però Sono rimasto Una giornata intera Seduto sul marciapiede Su una strada di Bologna Con un passaggio Delle persone E non stavo Le chiederemo Semplicemente Mi ero fatto male E non sapevo come fa In più dopo Andai a dormire Alla stazione Perché ormai Non potrò più dormire lì De Bologna E cosa succede Dopo qualche notte Mi rubano pure L'occhiali da vista C'ho l'occhiali Un po' da sole Un po' da vista Pensavano fossero da sole Non lo so E mi hanno fregati Quindi mi ritrovai Che non uscivo più a camminare Che non ci vedevo Che io sono completamente scegato A Bologna Quindi voi immaginate Che situazione Di disagio sociale Per fortuna Dopo questa ragazza Mi ha aiutato E sono riuscito A tornare a casa Vivo e salvo Ecco